Angeli Il dettaglio è il dettaglio Questo ovviamente l'ha scelto lei Anzi non lo gusto nemmeno Questa è proprio fatta Per Ormella Il piscino illustrato Con i nomi degli angeli Del proprio angelo A seconda della data di nascita Vedete se ci sta l'angelo giro Sulla posta No No Ma l'angeletto Tu si chiama Sealia E' l'angelo Sealia 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 Io animatore Sealia Ma l'impensabile Madonna Ho ricevuto veramente quest'anno tutti i regali che io volevo Questa è la monella Questa è la monella Questa è la monella Questa è la mia figlia Da mia figlia Rosario Lealtà, vedi? Carattere forte, capace di dare consigli e di essere ascoltato la risposta. E' una saggezza.